Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare Israele non ha firmato né il Trattato di Non Proliferazione Nucleare né la Convenzione sulle Armi Chimiche. Nel 2013 l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, che analizza l'industria degli armamenti, ha presentato il cosiddetto SIPRI Report nel quale riferisce che Israele possiede fino a 80 testate nucleari. Altri rapporti citano numeri molto più alti, ma il governo israeliano tace sui dati precisi delle loro armi nucleari e chimiche. Cari spettatori, aiutate anche voi a richiamare questi fatti taciuti alla consapevolezza dei popoli e a sollevare le relative questioni. Grazie. 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 Grazie.